Qua vengono tutte montagne, con la neve sopra, le casette piccole, le case piccole per la lontananza. Qua viene il cacciatore alla pantaia, e questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Deve nascere il bambino là, ti piace? No, certo se capisci quello adesso è abbozzato, non si vede niente, poi quando è finito si può dare il giudizio, è giusto, non si può dire adesso. Tu compri pure due cravate, due belle cravate, così quando ti metti un vestito nuovo ti puoi mettere pure una cravatta fresca, nuova, bella, e per Natale ti regalo cinque lire, cinque lire così fai bella figura con gli amici. qua poi viene una cascata d'acqua, è tutta la cascata d'acqua, qua tutti i pastori che vengono, i pescatori, è l'acqua che scende dalla montagna veramente, l'acqua vera faccia scendere. Si si, l'acqua vera. Si mette l'interoclismo dietro, si apre la chiavetta e scende l'acqua vera, te piace? No, il presepio è che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'interoclismo da dietro? Ma se quello non è finito ancora, come puoi dire non mi piace. Eppure quando è finito non mi piace, caggia fai, non mi piace, non mi piace, basta. E va a te, hai capito? Vai. Esci di casa mia, non ti voglio tenere più, ti trovo un mestiere, un lavoro qualunque e campo con i soldi tu. Si, signore, me ne vado, me ne vado. Ma te ne vai? Eh, ma il presepio non mi piace. Ma te ne vai? Eh, ma il presepio non mi piace. Ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presepio. Si, signore, me ne vado, me ne vado. Ah, ah, ah.